Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Ci troviamo all'interno di un appartamento al civico 16 di via Parea, in zona Ponte Lambro, in provincia di Como, in Lombardia. Nella mattinata di mercoledì 20 luglio 2022 viene trovata in un lettino da campeggio una bimba di nome Diana, ormai esanime. Vicino alla piccola Diana, nel lettino c'è un biberon, mentre in cucina c'è una boccetta di benzodiazepine. La madre di questa bimba si chiama Alessia Pifferi ed è andata via, allontanandosi da casa per ben sei giorni, lasciando la figlia sola, in piena estate, con un solo biberon per sfamarsi. Alessia prova a svegliarla, le getta un po' d'acqua in faccia, le bagna i piedini nel lavandino, le dà qualche pacca sulla schiena, tenta un massaggio cardiaco. Fin dal principio non risulta che Alessia avesse dei problemi con delle sostanze, ma viene sottolineato che vi saranno eventuali verifiche sulle problematiche psichiche che potrebbero affliggerla. Quando Alessia Pifferi è rientrata, dopo sei giorni ha trovato la sua piccola immobile, così è corsa fuori dalla porta e ha chiesto aiuto alla sua vicina, implorandola di chiamare il 118. Ormai però è troppo tardi, non c'è più nulla da fare. Sono stati i propri soccorritori, dopo aver constatato il decesso della piccola, ad attivare la polizia. Agli agenti delle volanti arrivati sul posto, la madre Alessia, 37enne italiana con un familiare che vive in città, racconta di aver lasciato la bambina con la babysitter, anche se di questa persona non c'è nessuna traccia. Un primo esame sul corpo della piccola esclude la presenza di segni evidenti di violenza, ma gli investigatori della squadra mobile continuano a fare domande alla donna, che appare sempre più confusa e vaga. Dopo aver sentito amici, parenti e conoscenti, i poliziotti hanno continuato a mettere sotto torchio Alessia, che alla fine ha ammesso le sue responsabilità. Durante l'interrogatorio alla presenza del PM Francesco De Tommasi, Alessia Pifferi ha ammesso di aver lasciato la piccola casa giovedì 14 luglio 2022 per raggiungere a Bergamo il suo compagno, a cui avrebbe raccontato che la figlia era con la babysitter e di essere tornata soltanto sei giorni dopo nell'appartamento. Nella notte tra mercoledì 20 luglio e giovedì 21, la donna è sottoposta a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Lei stessa, che non ha mai avuto guai con la giustizia, né risulta in cura per problemi psichici, ha spiegato di non sapere chi sia il papà della bimba e che già in passato più volte aveva lasciato la piccola da sola in casa, anche se per meno giorni. In riferimento al compagno, la 37enne ha detto Io ci contavo sulla possibilità di avere un futuro con lui e infatti era proprio quello che in quei giorni stavo cercando di capire. È per questo che ho ritenuto cruciale non interrompere quei giorni in cui ero con lui, anche quando ho avuto paura che la bambina potesse stare molto male o morire. Dopo la discussione con il mio compagno, all'inizio lui ha detto che mi avrebbe riaccompagnata a casa, poi però ha visto che mi prendeva la mano e si dirigeva verso l'Effe, ossia vicino a Bergamo dove l'uomo vive. Lì ho capito che saremmo tornati a casa sua e non ho detto niente. A questo punto io avevo paura che la bambina potesse morire, ma dall'altra avevo anche paura sia della reazione del giudizio negativo di mia sorella, sia della reazione del mio compagno. Se ora ci ripenso, la mia percezione è che quelle due paure avessero pari forza senza che una prevalesse sull'altra. A partire dalla domenica, quando cominciavano a passare più giorni del solito, ho cominciato ad avere concretamente paura che la bambina morisse. Ma comunque mi auguravo che non succedesse. Questo augurio nella mia mente un po' era una specie di speranza, un po' era il pensiero che magari le cose che le avevo lasciato le bastassero. Nel corso dell'interrogatorio davanti al jeep sono emersi altri elementi, in particolare sull'insofferenza di Alessia verso la figlia e quindi la sua fatica per il ruolo di genitore. La donna ha mostrato anche una presunta preoccupazione dopo il terzo giorno che la bambina era da sola. Non ero tranquilla, ma forse ha prevalso la mia stanchezza che mi portavo dentro, perché sono una ragazza madre, nessuno mi aiutava ed era molto pesante. Sapevo che poteva andare così, ha confessato infine agli agenti. Viene mandata in carcere a San Vittore. Una sicurezza in tutto questo c'è. Nessuno ha sentito piangere la piccola Diana. Per sei giorni, mentre la mamma era a Bergamo con il compagno e la piccola in casa, abbandonata a se stessa, nessuno dei vicini ha sentito anche un solo lamento della piccola. Non la sentivamo mai piangere, ha detto infatti una vicina. In quella casa di Cortile in via Parea, al civico 2016 a Ponte Lambro, nessuno ricorda di aver mai sentito Diana urlare. Tantomeno in quei sei lunghissimi giorni in cui è stata lasciata dalla madre sola nel lettino. Non era una bambina vivace. Era sempre molto tranquilla, la si vedeva ogni tanto nel passeggino in giro con la mamma, ma sempre calma. Era difficile anche strapparle un sorriso, racconta un'anziana che vive in zona. E tra gli amici e i vicini c'è anche chi racconta che da sempre la piccola appariva un po' rallentata nei movimenti, sempre calma e poco vivace. Parole che fanno ipotizzare agli investigatori che la madre Alessia possa aver fatto assumere benzodiazepine alla figlia in modo da tenerla tranquilla. Si tratta in questo momento delle indagini solo di un sospetto investigativo legato al ritrovamento in cucina di un flacone di benzodiazepine vuoto per tre quarti. La conferma arriverà dagli esami tossicologici che saranno effettuati nel corso dell'autopsia sudiana. La causa di morte sembra legata a una forte disidratazione e denutrizione. La piccola è stata lasciata morire di stenti. Alezia nel corso dell'interrogatorio davanti al PM Francesco De Tommasi ha ammesso di aver lasciato la piccola a casa da sola in altre occasioni. Anche negli ultimi tre fine settimana, ma mai per più di tre giorni. In questi casi ha lasciato la piccola nel lettino con biberon di latte e di acqua. Non ci sarebbe mai stata alcuna babysitter a prendersi cura di lei, come invece raccontava ai parenti e anche al compagno. Giovedì 14 luglio Alessia Pifferi ha detto al compagno che la piccola si trovava al mare con la sorella. Doveva tornare il giorno dopo, ma ha lasciato Milano con due valigie piene di abiti. E alla fine è stata via per sei giorni. In realtà, chiariamo, lunedì 18 la coppia ha fatto tappa qualche ora a Milano. Il fidanzato doveva sbrigare alcune faccende in città, ma Alessia non è passata da casa. Inizialmente lo voleva fare, ma successivamente un litigio con il compagno le ha fatto cambiare idea. Alessia, stando ai racconti, è una donna schiva, mai particolarmente sorridente con la sua piccola. Non è mai sembrata troppo coinvolta nel rapporto con la figlia. Almeno questo è il ritratto che i vicini di casa fanno della donna. Nel condominio di Via Parea, in cui si è consumato il dramma, qualche residente ha legato dei palloncini con dei nastri bianchi alle ringhiere. Qui si leggono messaggi da Dio, ciao Diana, piccolo Angelo. In pochi hanno voglia di parlare. Di certo, non la madre di Alessia, che un tempo abitava con la figlia prima di trasferirsi in Calabria. Al primo piano, dove viveva la piccola Diana con sua madre, sul filo per stendere i panni ci sono ancora ad asciugare dei vestitini rosa e un bavaglino. Nella stessa palazzina, spiegano alcuni dei vicini, abita l'ex marito di Alessia, da cui era separata da tre anni, che si adopera con qualche lavoretto nel vicinato. Una donna commenta, non era una mamma buona, non giocava mai con lei, non la portava a passeggio, la teneva sempre nel passeggino. Mentre un uomo che abita poco distante conferma che Alessia per l'appunto era una persona un po' schiva e non dava molta confidenza. Il PM di Milano, Francesco De Tommasi, ha contestato ad Alessia Pifferi due aggravanti, futili motivi e premeditazione. Secondo l'accusa, la donna non ha avuto scrupoli nel lasciare la piccola da sola all'interno dell'abitazione, pur sapendo che sarebbe potuta morire di stenti. Tra le esigenze cautelari contestate, inoltre, c'è il pericolo di ritirazione del reato. La 37enne è ritenuta quindi una persona pericolosa. Durante l'interrogatorio, gli investigatori hanno percepito freddezza nella voce di Alessia ogni volta che parlava della figlia. Da qualche settimana le sue assenze erano ricorrenti e sempre più lunghe. Prima qualche ora, poi 3-4 giorni. Diana restava sola, abbandonata. Giovede 14, poco prima delle 19, Alessia è uscita di nuovo. Da un paio di giorni alla bimba dava delle gocce, di tachipirina, giura lei, anche se in casa non c'è traccia della confezione. Lo faceva perché, cito testualmente, la vedevo inquieta, forse per il caldo, forse per i dentini. Spontaneamente i residenti organizzano una veglia in memoria della piccola Diana. La fiaccolata parte alle 21 di venerdì 22 luglio in via Parea, dove la piccola viveva all'altezza del civico 26. Mentre gli abitanti delle palazzine attorno che conoscevano Alessia solo di vista la ricordano come riservate e poco incline a giocare con la sua bambina, un'anziana vicina amica di famiglia ricorda invece che la donna era contenta per la nascita di Diana. La signora che conserva ancora la bomboniera ricevuta il giorno del battesimo afferma è stupenda, è un meraviglioso fiore di cristallo, adesso non riuscirò più a guardarla. Col tempo, però, deve essere cambiato qualcosa per Alessia. La donna aveva partorito la piccola Diana in casa il 29 gennaio 2021. La bimba era nata prematura, al settimo mese. Ha raccontato agli inquirenti, come già vi ho detto, di non sapere chi fosse il padre. Mario D'Ambrosio, il compagno di Alessia, elettricista di Leffe in provincia di Bergamo, ha detto agli investigatori «Ero all'oscuro di tutto» e, distrutto, ha raccontato delle bugie che la donna aveva raccontato anche a lui quando il 14 luglio lo aveva raggiunto abbandonando Diana. A lui risultava che la piccola fosse dalla sorella. Quando mercoledì mattina la donna lo ha avvisato della morte di Diana, lui è rimasto incredulo e le ha chiesto chiaramente «Ma non era al mare con tua sorella?» Lei, lei, ha risposto che in realtà la piccola era rimasta tutto quel tempo a casa da sola e che lo stesso era successo in occasione di altri weekend trascorsi insieme. L'uomo sconvolto le ha poi domandato «Ma perché non me lo hai detto? L'avremmo portata con noi? Come è stato possibile?» Diana era nata proprio nella casa bergamasca di proprietà del compagno della madre. Un parto improvviso, come già vi ho detto, al settimo mese di gravidanza. «Non sapevo neanche di essere incinta», ha ripetuto più volte alla polizia Alessia. Ma, secondo gli inquirenti, la donna sapeva della gravidanza almeno dal terzo mese. Quel giorno, il 29 gennaio 2021, la piccola Diana era venuta alla luce nel bagno della casa di Leffe grazie all'intervento del 118. La nascita di Diana aveva portato a una rottura della relazione iniziata dopo essersi conosciuti su Tinder. Poi, nella primavera del 2022, la coppia si era riavvicinata. Alessia ha raccontato agli inquirenti, infatti, di aver lasciato sola la figlia per la prima volta a maggio, ma solo per poche ore. Il sospetto, però, è che tutto si è iniziato molto prima. Per fare luce su questo, gli investigatori della mobile, diretti da Marco Calì e coordinati dal PM Francesco De Tommasi, analizzano le chat trovate nel telefonino della donna. Messaggi scambiati con diversi uomini che Alessia Pifferi conosceva online e con cui aveva appuntamenti. E proprio questo sarebbe il movente dietro l'omicidio volontario pluriaggravato contestato dalla procura. Sembra che la donna abbia detto che la piccola era un peso e che voleva riprendersi la sua libertà. Il PM di Milano Francesco De Tommasi la descrive in questo modo. Una persona capace di commettere atrocità, pericolosa, che non ha avuto scrupoli, volendo portare avanti le sue relazioni a divertirsi, ad abbandonare da sola in casa per quasi sette giorni sua figlia Diana, facendola morire distenti. L'accuso è quindi di omicidio volontario aggravato da premeditazione e futili motivi. Dalle varie testimonianze raccolte nell'inchiesta della squadra mobile emerge la descrizione di una persona che vive raccontando bugie. La polizia ha interrogato la madre e la sorella di Alessia. Pare che loro fossero a conoscenza delle sue relazioni con altri uomini. La nonna era stata accanto alla piccola Diana quando lei aveva avuto un'infezione. Mercoledì mattina aveva ricevuto un messaggio dalla figlia. Ieri ho tribolato con Diana, ma nulla di grave. Dopo averlo letto, la madre ha chiesto ad Alessia se si trovasse con la piccola e la risposta è stata che sì, erano insieme e sarebbero tornate a Milano in giornata. Sempre la nonna ha raccontato che da un po' di mesi la figlia sembrava nervosa e piuttosto insofferente. Agli inquirenti Alessia ha detto di essere disoccupata, ma le indagini hanno mostrato che aveva entrate con cui riusciva a mantenersi. Proprio su questo aspetto, con l'analisi delle chat sequestrate nel suo telefono, la procura procede con una serie di approfondimenti. Tra i punti da chiarire è anche quello delle frequentazioni di uomini conosciuti sui social. Emerge che anche tra marzo e aprile 2022 la donna non si è fatta problemi a lasciare la figlia in casa da sola per una sera per incontrare un uomo, di cui nel corso dell'interrogatorio non è stata in grado di ricordare il nome. Stando al verbale tra l'altro è quest'uomo che le ha dato la boccetta di Anne, che è un potente tranquillante. La polizia ipotizza che Alessia abbia fatto assumere questo sedativo alla piccola per stordirla in più di un'occasione. Le ho dato solo qualche goccia di tachiperina perché aveva male ai denti. Ha sostenuto la donna all'inizio, appena rientrata a casa, quel mercoledì mattina. Stando alla deposizione di una vicina, Alessia aveva sostenuto che qualcuno avesse lasciato la porta dell'appartamento aperta e che dentro ci dovesse essere una fantomatica babysitter che era scappata. Tutto ciò prima di dire la verità. Emerge che anche coi familiari la donna aveva cominciato a mantenere un atteggiamento distaccato e che anche a loro avesse spesso raccontato bugie. Agli stessi agenti intervenuti il mattino del ritrovamento della piccola Diana ha detto di essere una psicologa infantile. Una storia che sembra avesse già utilizzato in passato. Alla donna viene contestata anche l'accusa di abbandono di minore per gli episodi precedenti, almeno due o tre fine settimana da giugno in poi quando aveva riallacciato la relazione col compagno di Leffe che per un periodo si era per l'appunto interrotta. Il 22 luglio 2022 Alessia è stata sentita dal GIP Fabrizio Felice ma il suo legale l'avvocato Raffaella Abrambilla non ha voluto chiarire come la donna ha provato a giustificare il suo comportamento. Quel che è certo è che Alessia ha detto più volte che era perfettamente consapevole che poteva andare così. In pratica sapeva che Diana poteva morire senza essere nutrita e accudita per tutti quei giorni. Il PM ritiene che non ci sia alcuna esigenza di richiedere una perizia psichiatrica o di effettuare una consulenza sullo stato mentale della donna. D'altra parte Alessia è sembrata lucida, presente a se stessa e con una volontà espressa a intermittenza di fare finta che quella figlia non esistesse perché bloccava le sue relazioni, la sua vita. La mossa dell'accertamento psichiatrico dovrebbero giocarsela alla difesa e nel procedimento è comunque molto probabile che, insomma, questo controllo venga richiesto. Il 23 giugno il GIP di Milano, Fabrizio Felice, si pronuncia sulla richiesta della procura di convalida del fermo e di custodia in carcere che vengono entrambe accolte. L'accuso è omicidio volontario nella forma omissiva, aggravato dai futili motivi. Il giudice ha però escluso l'aggravante della premeditazione. Per il GIP la donna aveva una forma di dipendenza psicologica dal compagno che la indotta ad anteporre la possibilità di mantenere una relazione con lui anche a costo dell'inflizione di enormi sofferenze a sua figlia con una condotta dall'impatto intrinsecamente ed estremamente violento anche se non in forma commissiva nei confronti della persona in assoluto più vulnerabile con la quale si trovasse relazione, alla quale era, come in effetti è stato, facilissimo fare del male. Alessia, aggiunge al giudice, è incline alla mistificazione e alla strumentalizzazione degli affetti e non ha rispetto per la vita umana. Sarà quindi necessario indagare il processo dissociativo che l'ha portata da un lato a provare a mantenere in vita la bimba, evitandole una morte violenta e dall'altro a lasciarle in una sopravvivenza ipotetica senza futuro che poi è quello che è successo, per andare a farsi i fatti propri. Matteo Lancini, psicologo psicoterapeuta presidente della Fondazione Minotauro di Milano riflette con cautela sulla vicenda della piccola Diana. Ritiene necessario aspettare gli sviluppi per sapere se quanto emerso fino a questo punto sarà confermato dalle indagini. Inoltre, solo le perizie e l'autopsia sul corpo della piccola permetteranno di capire se e in che modo le benzodiazepine somministratele dalla madre hanno effettivamente influito sul decesso. Ora vi leggo l'intervista che è stata fatta proprio a Matteo Lancini che trovo molto interessante. Professore, che idea si è fatto di questo delitto? Non conosco la donna, ne mi pare si sia capito molto del contesto. Però in questo caso emerge un elemento. La donna rifiutava sia la piccola che la fatica che avere dei figli comporta. Si devono fare sacrifici, i bambini soprattutto quelli molto piccoli per anni assorbono gran parte delle energie della mamma. Perché questa storia colpisce così tanto la pubblica opinione? L'elemento più difficile da accettare è quello dell'abbandono. Qui c'è una mamma che non ha ucciso la figlia strozzandola o con delle coltellate. L'ha fatta morire di stenti, l'ha lasciata sola dandole solo qualche piccolo aiuto e poi se n'è andata, ammettendo solo dopo che era consapevole che poteva succederle qualcosa. Ha fatto come si fa con i ragazzi più grandi o con gli anziani? Sì, ha attivato un processo di adultizzazione della figlia, che va sicuramente indagato. Ho letto anche che si accorta molto tardi di essere incinta. E già questo indica una forte mancanza di attenzione. Le gravidanze non volute esistono, ma a quanto pare nessuno se n'è incaricato, né se n'è accorto. Da quello che risulta la donna, ha detto molte bugie per giustificare il fatto che fosse l'effe dal compagno. Perché? Questa sarà la cosa più difficile da valutare. Diceva bugie in modo molto convincente o soffriva di una forma dissociativa? Chiarire questo aspetto sarà cruciale per capire cosa è successo. Cosa intende per forma dissociativa? Sembra che da un lato la donna volesse mantenere in vita Diana. Non l'ha uccisa, con un atto violento, come è successo in altri casi di matricidio. Le ha, anzi, lasciato un miberon dell'acqua dell'altro. Però non ha deciso di prendersene cura davvero. L'ha lasciata in una sorta di sopravvivenza ipotetica, senza alcun futuro, per andarsene dal compagno. E infatti non ha avuto futuro Diana. Come influisce l'ambiente sociale in questa vicenda? A differenza di altri casi in cui i madri uccidono i propri figli? Mi sembra che quello di Diana non sia un raptus, ma una storia di anaffettività, durante i quali la madre ha messo in atto quella forma dissociativa di cui parlavamo prima. E nel contempo le persone intorno a loro, dalla sorella di Pifferi, alla madre, all'attuale compagno, al padre della bimba, ai vicini di casa, non si sono accorti. E di conseguenza non sono intervenuti per fare in modo che la bambina potesse continuare a vivere, magari affidata agli assistenti sociali e a un'altra famiglia. In che contesto viviamo? La nostra è una società e purtroppo questo tocca anche una realtà come Milano, in cui si vive la genitorialità in solitudine. C'è un'assenza totale di genitorialità condivisa. Perché invece che lasciare lì la bimba, questa donna non aveva una persona a cui affidarla? Di solitudine possiamo parlare anche per la bambina. Non solo la madre l'ha lasciata sola, ma anche tutte le persone che l'erano intorno non si sono preoccupati per lei. La donna durante l'interrogatorio col GIPA ha messo ancora l'accento sulla difficoltà di essere una ragazza madre. Negli ultimi tempi ero molto stanca, mi mantenevo con gli aiuti di mia madre, che mi mandava un po' di soldi tutti i mesi. Avevo però attivato i bonus a cui potevo accedere grazie alla bambina. Emergono altri dettagli sulla relazione con il compagno interrotta a gennaio, ma ripresa a maggio-giugno. Nel mezzo Alessia avrebbe frequentato altri due uomini. Nel verbale della procura Alessia aveva spiegato Il mio compagno aveva accettato la bambina come se fosse sua, tanto che lei lo chiamava papà. Le cose sembrava che andassero bene, ma poi dopo circa un anno il nostro rapporto è entrato in crisi. Il compagno della donna ha raccontato Mi diceva che preferiva venire senza di lei, così respirava. È emerso infatti che anche in altre occasioni Alessia non aveva portato la figlia a casa dell'uomo Aleffe lasciandola solo a casa. Alessia diceva che Diana rimaneva con la sorella o con la babysitter, nonostante il compagno avesse detto più volte che se lei l'avesse portata a casa sua gli avrebbe fatto piacere. Il giudice Fabrizio Felice considera proprio il modo in cui la donna viveva, quella relazione con il compagno, anteposta all'accudimento della bimba, la principale motivazione del delitto, e spiega che Alessia aveva una personalità non equilibrata. Alessia che indossava di giorno abiti lunghi con lustrini e paiez. Alessia la diva con le fotografie in posa su una panchina sullo sfondo di palazzi popolari e cestini della spazzatura. Alessia che la settimana prima di abbandonare Diana fotografa la limousine che la va a prendere sotto casa. Il suo sogno. Alessia che non lavora da tre anni dice di essere una psicologa infantile ma si mantiene grazie alla madre che le manda 200 euro al mese con poche centinaia di euro dall'ex marito e con gli assegni familiari. Alessia che incontra di continuo uomini conosciuti su Tinder e Mythic in cambio di regali, cene, vestiti. Alessia che si muove solo con l'autista che, cito testualmente, prenotavo su Google come fosse una VIP. Il giudice Fabrizio Felice ha chiesto che la direzione di San Vittore valuti per Alessia. L'applicazione di un regime di sorveglianza rafforzata per il rischio di suicidio ma anche una collocazione protetta visto che il tipo di reato e la risonanza mediatica che esso ha avuto potrebbe sporla a pericolo all'interno dell'ambiente carcerario. Alessia è sorvegliata a vista, quindi. Una cosa è certa. La donna avrebbe potuto chiedere alla sorella in qualsiasi momento di andare a soccorrere la figlia. Ma non lo ha fatto. Non solo per orgoglio visti i rapporti freddi con la famiglia ma per preservare la relazione già in crisi con il compagno. Il futuro era l'ossessione di Alessia. Non il futuro della piccola Diana ma il suo. Un futuro d'amore che cercava in un turbine di relazioni. Davanti al giudice con freddezza glaciale racconta di aver interrotto da poco un rapporto con un imprenditore che si era legato molto a lei e alla bambina. Quando le viene chiesto il perché della rottura Alessia risponde era malato di tumore non c'era futuro. Intanto vi ricordo che l'aggravante della premeditazione è caduto in attesa degli esami tossicologici sul sangue di Diana e soprattutto sui residui di latte nel biberon trovato accanto al corpo della piccola. Per il GIP Fabrizio Felice il quadro potrebbe decisamente cambiare se dall'indagine autoptica risultasse che la madre aveva somministrato alla bambina il farmaco alle benzodiazepine rinvenuto presso l'abitazione che invece l'indagata sino a ora ha sempre negato di avere mai dato alla figlia. Secondo gli inquirenti attenzione la madre non avrebbe somministrato gli ansiolitici alla figlia per ucciderla ma per tenerla tranquilla evitando che potesse piangere a dirotto durante le sue prolungate assenze da casa. Nel frattempo il giallo delle benzodiazepine si infittisce. Gli investigatori non hanno trovato alcuna ricetta per il flacone di Anne che la donna aveva in casa né sono riusciti a rintracciare il misterioso uomo che a suo dire gliele avrebbe lasciate nell'appartamento durante i tre giorni in cui ha dormito con lei in via Parea. In ogni caso il quantitativo trovato nel flacone considerando che Diana ne prendeva meno di 20 gocce a notte ha detto la donna interrogata sarebbe troppo poco per un uso limitato a soli tre giorni c'era infatti un quarto di liquido. Inoltre nel primo sopralluogo i poliziotti della mobile diretti da Marco Calì e coordinati dal PM Francesco De Tommasi non hanno trovato alcun flacone di tachipirina. Alessia Pifferi ha detto di aver dato alla piccola nei giorni precedenti e anche il giovedì in cui è partita per l'Effe alcune gocce di paracetamolo. Quante gocce? Non lo so di preciso ma ha usato un contagocce. Questa è la sua risposta. Il farmaco però in casa lo sottolineo non è stato trovato a differenza dell'En. C'è inoltre il fatto che i vicini non hanno mai sentito piangere la piccola nei sei giorni in cui è rimasta sola in casa. La procura sospetta che Diana sia stata assedata. Anche perché chiariamolo le urla di una bambina che sta morendo di fame e sete sarebbero state lancinanti. Nel corso dell'interrogatorio Alessia ha ribadito più volte le avevo lasciato il latte non ho mai usato tranquillante. La piccola mostrava segni di lieve denutrizione un fisico gracile e aveva avuto in passato piccoli problemi a un rene legati alla nascita prematura ossia al settimo mese. L'autopsia dovrà chiarire se i ripetuti abbandoni da parte della madre le abbiano provocato nel corso dei mesi altri problemi di salute o di sviluppo. Un secondo aspetto su cui lavorano gli investigatori della polizia è l'analisi delle chat del cellulare della donna. Sono state trovate tracce di più incontri con uomini sconosciuti attraverso le app di incontri Tinder e Mythic. Rintracciare e interrogare questi uomini potrà chiarire se Alessia Pifferi che non lavorava da tre anni utilizzasse questi incontri per finanziare le sue molte spese e quindi se anche in virtù di questo aspetto economico la presenza della figlia Diana fosse un ulteriore ostacolo alle sue uscite serali. Della piccola Diana non ci sono fotografie almeno non quelle che ti aspetti quelle con i parenti gli amici il ricordo della festa di compleanno mentre fa il bagnetto mentre sorride a ricordarla ci sono solo palloncini lumini e pupazzi portati dagli abitanti di Ponte Lambro durante la fiaccolata in suo ricordo è come se di lei restasse solo un nome scritto con lettere argentate sulla cancellata Diana Pifferi non era nei registri dei servizi sociali non compariva nelle liste d'attesa dei nidi non era assistita dalla Caritas di quartiere un'amica di famiglia raccontato agli investigatori di una festa per il battesimo della piccola Diana organizzata da mamma Alessia un battesimo che però non c'è mai stato così come la festa servita soltanto per scruccare regali da amici e parenti Diana era soltanto un modo per muovere pietà per raccattare una busta di banconote un braccialetto d'argento è difficile rileggendo le parole di mamma Alessia immaginarsi abbracci e sorrisi i figli non sono per forza desiderati e purtroppo neppure amati nelle parole della donna c'è il distacco di chi parla di una vecchia automobile di un oggetto rotto e buttato ho partorito la bambina da sola nel bagno dell'appartamento del mio compagno erano le due di pomeriggio appena partorito sono andata in camera da letto ho preso il telefono e ho chiamato il mio compagno che stava lavorando al piano terra poi il ricovero all'ospedale papa Giovanni di Bergamo Alessia continua la bambina è stata dichiarata con il mio cognome la donna ripete che non sapeva di essere incinta mi sono accorta quando ho iniziato a sentire forti dolori alla schiena la nonna però interrogata dagli agenti della mobile spiega di aver saputo che la figlia era incinta già dal terzo mese mamma e figlia dimesse dall'ospedale lasciano Bergamo e tornano a vivere nella casa di via Parea insieme alla nonna è lei che tiene la piccola quando una volta riappacificati Alessia Pifferi e il compagno vanno a Monte Carlo per una vacanza ancora una volta la donna afferma volevo portarla con me ma poi alla fine l'ho lasciata da mia madre il giorno dopo la partenza della mamma la piccola si sente male e la nonna la porta all'ospedale Papa Giovanni così si interrompe la vacanza e Alessia è costretta a tornare a Milano un'amica ha raccontato alla polizia di quando una sera si erano fermate insieme a dormire a casa del compagno Alessia aveva tenuto Diana nel passeggino non l'aveva portata a letto con lei ma lasciata lì tutta la notte nei verbali Alessia dice soltanto che la piccola è sempre stata in salute e solo negli ultimi giorni era meno vivace del solito ma racconti di una bimba vivace e solare sembrano smentiti dai vicini di casa che parlano di una piccola gracile sempre tenuta nel passeggino che si muoveva a fatica come stordita una dei vicini intervestata nella piazzetta poco distante l'appartamento racconta quando la portava qui appena Diana si agitava e voleva avvicinarsi agli altri bambini veniva ripresa in modo brusco dalla mamma subito si fermava era come intimorita da lei nessuno però ha mai segnalato la situazione di quella famiglia ai servizi sociali la nonna dopo pochi mesi la nascita della nipotina aveva lasciato Milano ed era andata a Crotone dal compagno la sorella invece vive a poche centinaia di metri da via Parea i rapporti tra le due però erano pessimi Alessia dice infatti che la sorella non condivideva le sue frequentazioni così Diana è rimasta a casa sola sempre più spesso quantomeno negli ultimi due mesi come ha confermato la madre ma forse anche di più all'arrivo della polizia nel bilocale c'era latte e poco altro nel frigo c'erano soltanto due uova e un panetto di burro Alessia Pifferi a questo punto entra in crisi e per giorni continua a ripetere non sono una cattiva mamma il caso ha scatenato la rabbia di molti c'è che si sfoga sui profili social dei familiari altri con email ai magistrati per pretendere una condanna esemplare durante le fasi dell'arresto un paio di vicini hanno invece lanciato qualche insulto i nuovi difensori della donna gli avvocati Luca Dauria e Solange Marchignoli intendono chiedere una consulenza neuroscientifica e psichiatrica su Alessia Pifferi i due legali hanno affidato l'incarico ai professori Giuseppe Sartori ordinario di neuropsicologia forense e neuroscienze cognitive all'università di Padova e Pietro Pietrini ordinario di biochimica clinica e biologia molecolare clinica all'università di Pisa hanno spiegato a breve comincerà un lavoro per capire il percorso mentale che ha potuto portare a un fatto così tragico i primi esami dell'autopsia disposta sul corpo della piccola non hanno per ora cambiato lo scenario ricostruito dagli uomini della squadra mobile serviranno altri approfondimenti tossicologici e sui tessuti per individuare la causa esatta della morte di Diana e saranno necessarie le analisi su quel biberon lasciato dalla madre nella culla prima di chiudere dietro di sé la porta dell'appartamento e ritrovato una settimana dopo a terra fuori dal lettino con solo un velo di latte il contenuto sarà studiato dalla polizia scientifica in cerca dell'eventuale presenza di quelle benzodiazepine che potrebbero spiegare come mai nessuno in quella palazzina alle spalle del monzino abbia sentito piangere Diana durante l'assenza della madre e che potrebbero portare ad aggravare il capo di imputazione nell'ipotesi dell'omissione con il dolo pieno e la premeditazione i risultati parziali dell'autopsia svolta dall'istituto di medicina legale dal dottor Andrea Gentilomo hanno intanto certificato che non c'è alcuna causa evidente per la morte della piccola nessun segno di violenze percosse o traumi e nemmeno organi deteriorati che possano averne causato il decesso risposte più dettagliate si avranno all'arrivo degli esiti degli accertamenti compreso il risponso degli esami radiologici disposti in via precauzionale per verificare che non vi siano lesioni interne e per accertare che i ripetuti abbandoni non abbiano compromesso lo sviluppo della piccola la prima ipotesi aveva fissato il momento del decesso attorno alle 24 ore precedenti al ritrovamento del corpo su questo però non ci sono conferme il caldo potrebbe aver alterato alcuni parametri motivo per cui l'equipe medica non si è sbilanciata sicuro è il fatto che nello stomaco della bimba non c'era altro che latte nessuna traccia di cibi solidi quel giovedì mattina del 14 luglio prima di restare sola con un biberon Diana aveva infatti bevuto il latte e il tè come messo a verbale d'Alessia che ha aggiunto a pranzo non ha mangiato perché dormiva in quelle ore mentre la piccola riposava la donna aveva preparato i suoi due trolley in attesa dell'autista che l'avrebbe portata sola dal suo compagno Aleffe fino al mercoledì della settimana successiva il 27 luglio la procura di Milano ha dato il nulla osta alla sepoltura di Diana mentre la madre resta in carcere accusata di omicidio volontario pluriaggravato nelle indagini della squadra mobile coordinate dal PM Francesco De Tommasi l'atto della procura dopo l'autopsia consente di fissare e celebrare le esequie per il primo agosto sono stati fissati gli accertamenti irripetibili sul contenuto del flaconcino di En ritrovato nell'appartamento di Via Parea per verificare che si tratti davvero di benzo di azepine e sul latte rimasto nel biberon ritrovato vicino a Diana per appurare se vi siano tracce del potente tranquillante che la madre potrebbe averle fatto assumere verrà inoltre verificato se vi sia o meno il DNA della bimba sul beccuccio del biberon Alessia Pifferi si trova in un'area protetta del carcere di San Vittore guardata a vista per timore che possa commettere atti autolesionistici l'avvocato Solange Marchignoli riporta che Alessia piange per la figlia ma è confusa smarrita e non riesce a spiegarsi né a spiegare quello che è successo ci ha chiesto di poter andare al funerale della figlia non rendendosi conto che non potrà partecipare l'ultimo saluto a Diana Pifferi non è a Ponte Lambro il funerale si tiene a San Giuliano Milanese alla parrocchia Santi Pietro e Paolo in via Bruno Buozzi nel mentre la difesa ha già richiesto una perizia neuroscientifica e psichiatrica su Alessia e ha nominato un consulente per valutare gli esiti degli esami in agenda il primo agosto sul flacone di sedativo sul beccuccio del biberon e sul velo di latte rimasto dentro sugli indumenti della bimba e su un asciugamano intanto i parenti di Alessia sono finiti sotto accusa le loro pagine social tempestate di insulti e minacce come hanno potuto non accorgersi la nonna Maria ai microfoni del TGR Lombardia si è difesa ha detto la vedevo tutti i giorni in videochiamata era bella la bambina era allegra e dei ripetuti abbandoni non era conoscenza afferma non lo sapevamo lei sabato e la domenica non rispondeva al telefono poi ci diceva che andava tutto bene e noi siamo stati in fiducia lo stesso rimprovero è stato scagliato contro il suo quartiere in realtà i vicini che non hanno visto non hanno sentito non hanno denunciato dopo la tragica scoperta gli stessi vicini hanno ricordato Diana con una fiaccolata attorno alla casa di corte di via Parea le mamme di Ponte Lambro saranno presenti alle esequie da un lato all'altro di Ponte Lambro corre un passaparola chiedete a chi deciderà di esserci e di partecipare ai funerali e di indossare una maglietta bianca un gesto di solidarietà per la piccola vittima ma anche un modo per contarsi per tornare a vedersi alla cerimonia funebre presenziano anche il sindaco di Milano Beppe Sala il sindaco di San Giuliano Milanese Marco Segala e quello di San Donato Milanese Francesco Squeri il ferito arriva intorno alle 14.30 con la piccola bara bianca sormontata da un mazzo di rose bianche sul carro funebre anche la nonna e la zia in lacrime la nonna Maria ha gridato Diana ciao la mia Diana il carro funebre arriva alla chiesa scortato dalle mamme di Ponte Lambro tutte indossano una maglietta bianca con la scritta insieme a te è volato in cielo anche un pezzo del nostro cuore ed espongono uno striscione rosa con la foto della piccola e la scritta volerò sulle ali del mondo nel cielo infinito un lungo applauso accompagna la bara al suo ingresso nella chiesa piena l'arcivescomo di Milano Mario Delpini ha inviato un messaggio da leggere durante la celebrazione in cui parla del dramma della solitudine e lamenta che in città si sia perso il senso di comunità noi non riusciamo a comprendere come sia potuto succedere l'abbandono di una bambina fino all'esito tragico della morte di Stenti il celebrante Don Luca Violoni nell'Omelia esprime il sentimento di tutti i presenti viviamo un senso di impotenza profonda per tutto quello che avremmo potuto fare se avessimo potuto questo non ce lo toglierà nessuno il sacerdote ha parole anche per la madre di Diana Alessia che aveva espresso il desiderio di partecipare ai funerali cosa ovviamente impossibile Diana non aveva la parola non ha potuto verbalizzare quello che ha provato o chiedere a parole un aiuto ma Dio non permetterà che si perda e non permetterà che si perda sua madre noi siamo qui perché siamo profondamente convinti che Diana non è morta è morto il suo corpo ma Diana è viva un giorno il suo corpo risorgerà ritroverà la luce che è l'incontro con Dio Don Violoni ha poi citato il sociologo Zygmunt Bohman sosteneva che siamo in una società liquida mentre oggi verrebbe da dire che siamo in una società gassosa dove il soggetto sembra squagliarsi su se stesso incapace di azioni umane siamo qui per dire che vogliamo tutt'altro tipo di umanità e di relazioni e osservando i banchi della chiesa Gremiti aggiunge c'è una comunità che non si rassegna e vuole costruire un modo di vivere diverso al termine della cerimonia un abitante del quartiere di Ponte Lambro ha letto un messaggio a nome dei vicini in cui ha ricordato la piccola Diana una bambina sana una bella bambina e ha aggiunto vogliamo che la giustizia faccia il suo percorso ma senza sconti di pena a questo punto è stato interrotto da un fragoroso applauso dei presenti anche nonna e zia della piccola hanno applaudito all'uscita i presenti hanno fatto volare in aria i palloncini bianchi argentati a forma di cuore e un rosario fatto con palloncini rosa la nonna al momento in cui la piccola bara è stata caricata sul carro funebre ha singhiozzato Diana noi non ti abbiamo mai abbandonato ti siamo sempre stati vicino è tua mamma che è una pazza una pazza poi ha ringraziato tutti i presenti mentre il carro funebre ripartiva tra gli applausi la bambina era in salute cresceva bene queste le parole della nonna della piccola Diana Pifferi la signora Maria al termine del funerale il dolore le parole rotte dal pianto l'incredulità soprattutto la rabbia verso sua figlia la nonna rilascia un'intervista al Corriere della Sera si è data una spiegazione? no non ci sono parole Diana stava bene la vedevo due volte al giorno in videochiamata stava bene cresceva bene camminava pure poverina magari ci ha messo un po' più degli altri bambini però faceva i suoi primi passi stava in piedi cominciava a staccarsi dal divano certo che mi sembrava in buona salute parlava le prime paroline diceva mamma nonna pappa così fino a 15 giorni fa poi cos'è cambiato? è cambiato l'atteggiamento di mia figlia Alessia aveva sempre premura diceva che Diana stava dormendo quando chiedevo di vederla non sapevo cosa stesse organizzando probabilmente era presa solo dall'uomo che frequentava Alessia l'ha mai chiamata durante il soggiorno nella Bergamasca? no quando era via non chiamava quasi mai ma io credevo avesse sempre la bimba con sé abbiamo sentito che ha tentato di contattarla dal carcere sì ha provato a chiamarmi qualche giorno fa le ho anche risposto male sono disgustata ad oggi non ne voglio sapere di lei poco dopo questa intervista arriva una notizia il papà di Diana ha finalmente un nome e un cognome in realtà sembra che sia stata proprio Alessia a confessare ai suoi legali Solange Marchignoli e Luca Dauria di sapere chi è il padre della bambina fino a questo momento la donna aveva sempre detto a investigatori e inquirenti di non sapere con chi aveva concepito la figlia e di aver partorito in casa al settimo mese in realtà sembra che lei sapesse tutto e che abbia agito così soltanto per nascondere la gravidanza al nuovo compagno l'elettricista di Leffe il papà della piccola Diana è un uomo italiano e viene chiamato da poliziotti e magistrati per essere ascoltato verosimilmente le sue parole non saranno d'aiuto per ricostruire l'omicidio le indagini proseguono soprattutto per capire se alla piccola siano stati somministrati per l'appunto dei tranquillanti la versione dell'uomo potrebbe invece essere utile per verificare ulteriormente la veridicità dei racconti di Alessia la donna dopo un iniziale periodo di spaisamento in cella durante il quale ricordiamo ha anche chiesto di partecipare ai funerali della figlia e di incontrare il fidanzato sembra essere adesso più lucida e collaborativa lo riporta l'avvocato Solange Marchignoli ai giornalisti dicendo stamattina era più tranquilla e serena e mi ha rivelato il nome del padre si tratta di un'informazione che non dirò a nessuno in quanto non ha alcuna rilevanza ai fini processuali la legale oltre ad aver confermato la richiesta di incidente probatorio per l'analisi dei reperti ha chiesto l'autorizzazione all'ingresso in carcere del professor Pietro Pietrini ordinario di biochimica clinica e biologia molecolare clinica dell'università di Pisa è incaricato dalla difesa di redigere una consulenza neuroscientifica e psichiatrica su Alessia Pifferi per quanto riguarda il papà biologico quotidiana si tratta di un uomo che Alessia ha conosciuto in maniera estemporanea e che sembra non sapere di essere il padre della bimba pare infatti che nei mesi passati la donna abbia tentato di tenere nascosta la sua gravidanza prima e il nome del padre poi per evitare di mettere a repentaglio la relazione che in quel periodo stava riallacciando con il suo compagno e per sottrarsi al giudizio dei familiari durante un ulteriore colloquio con i suoi legali Alessia nega nuovamente e con forza di aver somministrato dei tranquillanti alla piccola Diana stando all'avvocato Marchignoli Alessia Pifferi non ha ancora capito cosa ha fatto si rende conto che sua figlia non c'è più ma c'è bisogno di altro tempo perché realizzi davvero cosa è successo la vita in carcere per la donna è in totale isolamento è controllata a vista nessun contatto con l'esterno cerca però tramite il suo legale di sentire la madre e l'ex compagno ma i tentativi sono vani l'avvocato riporta che la signora Pifferi è una donna molto sola né la madre né il compagno vogliono più sentir parlare di lei però devo dire che in carcere le sono arrivate lettere di persone a lei sconosciute che vorrebbero aiutarla anche io ricevo ogni giorno lettere di uomini e donne che chiedono cosa poter fare per darle una mano per poter comprare dei vestiti o mandarle del denaro ha la domanda nei vari colloqui che ha avuto con la sua assistita lei si è mai sfogata le ha mai detto ma cosa ho fatto la risposta dell'avvocato è no questo no non ancora però a pianto soprattutto le prime volte che ci siamo parlate ha raccontato la sua storia a pianto gli investigatori della squadra mobile hanno depositato il lavoro di analisti delle chat estrapolate dal cellulare di Alessia Pifferi stando ai messaggi sembra confermato il fatto che la presenza della piccola Diana venisse vissuta dalla madre come un peso intanto il GIP milanese rigetta la richiesta di accesso in carcere del professor Pietro Pietrini uno dei due docenti incaricati dalla difesa di Alessia di redigere una consulenza neuroscientifica e psichiatrica sulla donna il magistrato non ha infatti ravvisato allo stato delle indagini motivi validi per consentire i colloqui al di là di quelli con i legali con persone esterne e medici ai fini di una consulenza tecnica sullo stato di salute mentale della donna questo anche perché agli atti dell'inchiesta coordinata dal PM Francesco De Tommasi per ora non ci sono elementi che fanno pensare ad eventuali patologie psicofisiche della donna inoltre si è saputo che anche la nonna e la zia di Diana hanno nominato un loro legale in vista della costituzione di parte civile contro Alessia Pifferi che risponde di omicidio volontario aggravato la donna ha scritto una lettera dal carcere indirizzata al programma quarto grado su rete 4 nella lettera raccoglie alcuni ricordi legati alla sua vita al suo matrimonio e per la prima volta tracce di pentimento scrive vorrei poter tornare indietro a quel giorno per non uscire e riavere la mia bambina ho vissuto a Milano fino al matrimonio fino a quasi 20 anni poi sono andata in Sicilia a Palermo perché mi sono sposata e poi sono tornata a Milano a casa mia quindi ho vissuto con il mio ex marito per il resto ero sempre in casa con i miei genitori o da sola ricordo che il matrimonio è stato molto bello mi sono sposata in municipio a Palermo in chiesa a Milano a Ponte Lambro in Sicilia ero vestita con l'abito da sposa prestato da mia sorella invece quello di Milano l'ho comprato io risparmiando siamo stati una famiglia normale abbiamo cercato di avere un figlio che non è mai arrivato in un altro passaggio spiega il suo pensiero sulla figlia e smentisce le affermazioni girate nelle precedenti settimane io non ho mai detto che mia figlia era un intralcio nella mia vita vorrei proprio sapere chi l'ha detto e perché io ho semplicemente detto che è molto più difficile fare una propria vita con un figlio piccolo ancora di più essendo una ragazza madre Alessia Pifferi il 28 ottobre 2022 arriva in tribunale a Milano per partecipare alla sua prima udienza davanti al GIP Fabrizio Felice i legali della donna hanno presentato una nuova istanza per fare in modo che venga visitata in carcere da due esperti per effettuare accertamenti di carattere psicodiagnostico il GIP di Milano però scrive anche dopo l'ingresso in carcere come attestano le relazioni del servizio di psichiatria interna di San Vittore si è sempre dimostrata consapevole orientata e adeguata nonché in grado di iniziare un percorso nei colloqui psicologici periodici di monitoraggio di narrazione ed elaborazione del proprio vissuto affettivo ed emotivo viene respinta quindi per la seconda volta la richiesta di far entrare in carcere un consulente della difesa di Alessia Pifferi nel corso di un'udienza datata 28 settembre infatti i PM titolari dell'inchiesta si erano posti l'obiettivo dei legali di Pifferi era quello di far redigere una consulenza neuroscientifica il magistrato ha ritenuto che la difesa non potrebbe introdurre questa perizia nel procedimento senza un contraddittorio tra le parti secondo i legali della donna la consulenza sarebbe servita unicamente a stabilire se Alessia ha agito condolo o colpa il GP invece ritiene che questo potrebbe portare il giudice del dibattimento a orientare la propria valutazione sulla consulenza stessa e non sull'analisi delle intenzioni dell'imputata a partire dei fatti a ottobre del 2022 Alessia è stata picchiata selvaggiamente dalle altre detenute lo racconta il Corriere.it la sua legale Solange Marchignoli è successo una settimana fa dopo la prima udienza in tribunale Alessia stava raggiungendo una suora quando è stata aggredita dalle altre detenute che le hanno tirato i capelli e schiaffeggiata questa donna ha molta paura di quanto le sta accadendo io qui vorrei aggiungere due parole capisco che questa donna si sia macchiata di un crimine lo capisco lo capisco che ho studiato questo caso ho guardato tutto quello che c'era da guardare però credo che la violenza non sia mai una risposta corretta mai cioè nel momento in cui questa donna è stata gonfiata di botte cosa è stato ottenuto la violenza non è mai la risposta per quanto mi riguarda mai tra i consulenti della difesa di Alessia Pifferi c'è anche l'ex comandante del RIS di Parma Luciano Garofano è l'esperto di genetica forense che si occuperà in particolare degli accertamenti biologici e chimico forense la nomina di Garofano generale dei carabinieri in congedo è stata conferita dai legali di Pifferi Solange Marchignoli e Luca D'Aurea nell'ambito dell'incidente probatorio disposto dal GIP Fabrizio Felice l'accertamento deve essere effettuato sul biberon su una bottigliata d'acqua e su una boccetta di N il punto da stabilire è se Alessia ha somministrato l'N alla piccola Diana attraverso appunto il biberon per sedarla Alessia dal carcere ha chiesto che le venga detto dove è sepolta la piccola Diana e di avere una foto della bambina lo hanno riferito i legali della donna nel giorno in cui il GIP di Milano Fabrizio Felice ha accolto la richiesta degli avvocati di allargare la perizia ad altri oggetti ritrovati vicino alla culla l'istanza dei legali prevede anche un esame dell'appartamento di Via Parea a Ponte Lambro alla ricerca di ulteriori oggetti ma anche per analizzare tutti gli elementi sequestrati il 20 ottobre emerge che sul corpo della piccola c'erano tracce di benzodiazepine secondo il primo esito delle analisi effettuate nel sangue e nel capello della bambina la relazione dei medici legali sarà esaminata da IPM Francesco De Tommasi e Rosaria Stagnaro titolari dell'inchiesta nonostante la madre abbia sempre negato di aver somministrato Lena alla figlia gli investigatori sono sempre stati scettici su quanto affermato da Alessia e le analisi medico-legali parrebbero confermare il loro sospetto la testimonianza dei vicini di Kata che affermano di non aver sentito la bambina piangere in quei sei giorni avvalora ulteriormente l'ipotesi della sedazione mi sento vuota e spenta sia psicologicamente che nel cuore mia figlia mi manca da morire ed il dolore è molto forte ed intenso ogni volta che chiudo gli occhi spero che tutta questa situazione sia solo un brutto sogno ed invece mi risveglio in questo carcere e mia figlia non c'è più sono le parole scritte in una lettera di Alessia Pifferi diffusa dalla trasmissione Iceberg di Tele Lombardia nella serata di giovedì 3 novembre la lettera continua a Diana facevo cucù e ridevamo come due matti e poi dopo un po' si addormentava penso di sapere solo io il dolore la sofferenza che ho nel cuore per questa situazione e il trauma che sto vivendo vorrei tanto tornare indietro se si potesse soltanto per riavere con me a mia figlia parlando invece della vita di tutti i giorni Alessia si descrive con queste parole in casa avevo capito che se non si lavorava non si mangiava ho fatto vari lavori nella mia vita anche se in nero ma a me importava trovare dei lavori come pulizie babysitter assistevo un anziano anche come compagnia pulizia in ospedale centro tumori assistente alla poltrona per me quello che conta e contava era trovare lavori onesti e umili che mi consentissero di avere soldi in tasca per fare la spesa e per mantenermi ed io ogni fine settimana ogni fine mese ero molto felice non sono mai stata una spendacciona grazie agli insegnamenti che ho ricevuto dalla mia famiglia questa versione di Alessia non mi convince perché ho un vago ricordo dell'autista che l'andava a prendere sotto casa e che lei prenotava su google ma procediamo ricordo che quando lavoravo avevo iniziato anche ad andare in vacanza da sola ed ero felicissima perché ero finanziariamente indipendente ma in casa non doveva mancare nulla nel frigo la verità però è una ed è tremenda la piccola aveva sete aveva fame e forse per questo nel suo stomaco sono stati trovati pezzetti di pannolino sì il suo stesso pannolino è uno dei dettagli che emergono dall'autopsia sul corpo di Diana Pifferi quella della piccola è stata secondo il parere degli esperti una lunga agonia l'autopsia già depositata nella relazione definitiva dice che la bambina è morta per una gravissima e prolungata la disidratazione aggravata dalle temperature altissime di luglio la mamma a casa del compagno nella bergamasca l'ha chiuse in casa con le finestre sigillate senza aria condizionata senza cibo e la bimba sembra sia stata sveglia e cosciente vigile quindi durante tutta la sua agonia che l'ha portata alla morte non è stata trovata infatti nessuna traccia di benzo di azzettine nel biberon che era accanto al corpo di Diana Pifferi è quanto emerso dalla perizia effettuata con la formula dell'incidente probatorio perizia chiesta dei difensori della madre Alessia Pifferi è disposta dal GIP del tribunale di Milano Fabrizio Felice durante l'incidente probatorio gli accertamenti si sono concentrati sul biberon con il latte che Alessia aveva lasciato accanto alla bambina hanno interessato anche una bottigliata d'acqua un pannolino un cuscino e un materasso da nessuna parte è stata trovata traccia di tranquillanti tranne che su una boccetta di N che è un tranquillante appunto che si trovava all'interno dell'abitazione dagli esiti della consulenza medico-legale disposta dalla procura e più precisamente dall'esame del capello invece erano emerse tracce di benzodiazepine che però non sono state rilevate altrove è quindi ipotizzabile una contaminazione involontaria e non una somministrazione diretta che ha portato alla rilevazione nelle analisi medico-legali nei primi giorni di febbraio 2023 i PM Francesco De Tommasi e Rosaria Stagnaro chiederanno il processo con rito immediato per la mamma di Diana il procedimento verrà celebrato davanti alla corte d'assise perché la donna rischia la condanna all'ergastolo la Pifferi che da qualche settimana è uscita dall'isolamento ha infatti revocato il mandato ai suoi ormai ex-legali nominando al suo posto Fausto Teti che pare sia lo stesso avvocato della sua compagna di Cella come primo atto dopo un colloquio durato circa tre ore il nuovo difensore ha deciso di chiedere una perizia psichiatrica per valutare le capacità di intendere e di volere di Alessia al momento dei fatti l'obiettivo quindi è capire se la donna fosse in sé quando ha deciso di lasciare la piccola Diana da sola nell'appartamento per sei giorni per raggiungere il fidanzato nella bergamasca lasciando così morire la bimba di stenti il cambio di difesa è avvenuto nel giorno in cui Alessia doveva essere sentita nuovamente dal GIP Fabrizio Felice il nuovo legale ha chiesto qualche giorno per acquisire e studiare gli atti e l'interrogatorio è stato inviato all'otto febbraio dal punto di vista oggettivo ha aggiunto il difensore il quadro dei fatti è chiaro e ora elemento centrale per la difesa sarà una richiesta di perizia psichiatrica nel processo che si terrà davanti alla corte d'assiste di Milano questo è tutto ciò che si sa per ora sul caso della piccola Diana e di Alessia Pifferi ovviamente vi terrà aggiornati appena usciranno nuove notizie detto questo io ho finito di parlare in questo video spero ovviamente che questo video possa essere stato interessante per voi per me è stato molto difficile sia da scrivere che da girare mi ha colpito tantissimo questo caso fin dalle prime notizie che sono uscite e l'ho seguito l'ho seguito con molto interesse devo dire la verità perché volevo capire cosa ci fosse sotto no qual era il contesto e io credo che Alessia abbia bisogno di una perizza psichiatrica credo proprio che ce l'abbia bisogno per capire cosa è scattato perché si è comportata così secondo me devono farla non sarebbe giusto non farle una perizza psichiatrica ma questa è solo una mia opinione questo caso è tragico tremendo e io voglio sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti quindi come al solito come vi dico sempre ci becchiamo qui sotto nei commenti e nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti